Ben trovati ragazzi, ecco la terza parte dei video che abbiamo fatto su come organizzare e risolvere i problemi. Quello su cui riflettiamo adesso è come organizzare i dati di un problema quando questi in particolare sono molti e quindi diventa un po' complesso gestirli. Quindi quando si hanno tanti dati a disposizione per reggere e organizzarlo diventa necessario ricorrere ad un aiuto che viene dato dalle tabelle, dall'uso delle tabelle e dei grafici. Allora facciamo un esempio concreto così ci capiamo subito cosa vogliamo dire. Supponiamo di voler calcolare quale numero si ottiene più spesso se lancio due dati, due dadi scusate. Allora prima di tutto è necessario capire che ogni dado può dare come risultato un numero che va da 1 a 6 e poi dobbiamo anche tenere conto che quello che noi dobbiamo fare è capire che i dati sono due e che quindi dobbiamo mettere insieme tutte le possibili somme che il lancio dei due dati possono procurare. Allora facciamo ordine io ho iniziato col preparare una tabella di questo tipo in alto ho messo il primo dado con tutte le possibili le sue facce quindi 1 2 3 4 5 6 di lato ho messo il dado 2 e il secondo dado con le altre sue facce. Chiaramente l'operatore di questa tabella è la somma quindi si deve iniziare con una certa calma a completare la tabella eseguendo le addizioni quindi 1 più 1 fa 2, 1 più 2 fa 3, 1 più 3 fa 4, 1 più 4 fa 5, 1 più 5 fa 6, 1 più 6 fa 7. Poi si va sotto 2 più 1, 2 più 3 e via discorrendo finché non avrete non l'avrete completata totalmente. Io evidentemente l'ho già preparata ed ecco quello che mi viene fuori. Questa è la tabella tutta completa e la prima cosa che osservo è che i risultati uguali sono sempre sulla diagonale. Vedete? 3, 4, li ho anche cerchiati con i colori differenti. C'è solo un valore che esce una volta che è il 2 che è dato dalla somma 1 più 1 e il 12 che è dato dalla somma di 6 più 6. Gli altri escono da due volte fino al 7 che è evidentemente il numero che esce con maggiore frequenza perché è quello che ho disposto tra l'altro anche sulla diagonale più lunga sulla diagonale del quadrato. Il problema è risolto però io posso anche utilizzare degli altri strumenti per spiegare meglio e rendere più chiaro questi risultati che ho ottenuto. Questi strumenti sono dati ad esempio da una tabella delle frequenze dove io ho scritto qui i risultati di ogni lancio e quindi la frequenza con cui questi risultati si ripetevano oppure l'istogramma che è poi il diagramma a barre dove riportavo quante volte è uscito il numero 2, quante volte è uscito il numero 3, quante volte è uscito il numero 4 e via discorrendo. Vi lascio un esempio, un lavoro che dovete fare voi che è un po' complesso per cui per un pezzettino vi ho anche accompagnato. Il problema è questo qua. Paolo e Anna hanno alcune carte a testa, tutte più piccole, cioè minori di 10. Anna ha solo carte pari, Paolo ha solo carte dispari. Se estraggono contemporaneamente una carta, quante volte la loro somma sarà un multiplo di 3? Allora vi ho detto che vi dà un aiutino e allora ecco che l'ho preparato. Prima di tutto bisogna capire che le carte sono 1, 2, 3 e arrivano al massimo a 9. Anna ha solo carte pari, quindi non ha tutte queste carte, ha solo le carte pari. Ricordatevi cosa significa e quali sono soprattutto i numeri pari. Paolo invece ha carte dispari. Vale lo stesso discorso di prima, non ha tutte le carte, ha solo quelle tra queste che sono dispari. Quindi bisogna ricordarsi cosa significa numero dispari. E poi chiede l'esercizio di ricordarsi quali sono i multipli di 3. Poi dovete realizzare, come ho fatto io prima, una tabella. È un quadrato, vedete, più o meno. L'operatore è più. Qui metterò le carte di Anna. Qui metterò le carte di Paolo. E poi procedo a fare, come prima, tutte le operazioni. Quando ho completato la tabella, cerchio i numeri che sono multipli di 3. Anche se si ripetono. E avrò il numero delle volte in cui, facendo questo giochino, Anna e Paolo estrarranno carte multipli di 3. Buon lavoro!